Diana, 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 Diana! Oh! Oh, cavolo, ho perso! Allora, Diana, sei pronta a fare la mia penitenza? Oh, Eva, ok, ho perso e farò la tua penitenza, ma per favore non pare che sia troppo difficile, d'accordo, eh? Beh, Diana, sono io che decido, no? Eva, fai qualcosa di molto difficile. Sì, Eva, fai le baciare uno dei perdenti. No, ragazze, dovresti essere un po' più gentili con me. Ho un'ottima idea. Diciamo che toccherai il sedere del primo che entrerà in questa stanza, che ne pensi? Oh, Eva, sei davvero un'amica gentile. Ok, ragazze, e se il professor Mike dovesse arrivare proprio in quel momento... No, non verrà qui, stai tranquilla. Sì, qualsiasi ragazzo tranne il professore. Spero tanto che sia Simone, d'accordo, spero tanto che sia lui. Ops, Diana, sei stata un po' sfortunata. Beh, in fondo è il suo ex. No, Eva, ti prego, fammi fare qualcos'altro, per favore. No, Diana, pallo. Dove ha messo la palla, Kev? Oh, ragazze, non posso? Diana, pallo. Altrimenti sarai una perdente. Abbiamo trovato questo zoo abbandonato non molto tempo fa. Gli animali hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Aiutaci a salvare queste povere creature e a costruire per loro abitanti accoglienti. Scarica il nostro gioco e mettiamoci al lavoro. I panda, gli elefanti e i leoni hanno bisogno del nostro aiuto. Ragazze, io non posso! Diana, forza! Va bene, ma questa cosa deve rimanere tra noi, è importante. Dima, scusa! Diana, cosa è stato? Dima, scusa, era solo una penitenza, d'accordo? Che cosa era quello? Che stai facendo? Beh, è interessante. Le cheerleader banni toccano il sedere ai fidanzati delle altre. Oh, ora il fatto che Diana abbia toccato il sedere di Dima non sarà più un segreto? Oh, accidenti, le bulle lo diranno a tutti. Lo sapevo, lo sapevo. Come sempre arrivate nel momento giusto, voia. Sei sicura che fosse una punizione? Sì, Dima, era solo una punizione. Beh, Diana, però l'hai fatta e non sei una perdente. Diana è sicuramente attratta da me. Oh, ragazze, spero che quello che avete visto rimarrà un segreto. Oh, beh. Ascoltate, era solo una punizione e non scodinzolate troppo. Senti, Dima, che è successo? Stava flettando con te per caso Diana? Non so, stavo cercando la mia palla nell'armadietto. E se Verde lo scoprisse, immaginate come si offenderebbe? Green non deve scoprirlo. Dima, noi siamo per la verità e pensiamo sul serio che Verde dovrebbe saperlo. Non è colpa mia se le bannis fanno questi scherzetti. E non è un grosso problema se Diana mi ha toccato il sederino. Come non è un grosso problema, è grosso almeno quanto le tue chiappe. Dima, dovresti voltare pagina. Basta con Diana, mi dai sui nervi. Dima, voglio che tu preghi Giada e me di non dire nulla a Verde. Avanti, pregaci. Inoltre, Dima, tutti i poster con Diana che sono a casa nostra devono sparire. Sono stufo di voi. Dove ha messo la palla quel maledetto Kev? Bruno, avanti. Lo sai che alla fine paghiamo sempre, no? Preparaci una cioccolata con i marshmallow, ti prego, facci credito. Ragazze, ve la farei, ma la mia ragazza, sapete? La tua ragazza cosa? Mi proibisce di fare cioccolata ad altre ragazze. E questo è un problema. Non le diremo niente di niente. Ti prego, Bruno, ti prego. E va bene, ma non dite nulla a Zenia, ok? Le rane sono le più belle. Le rane sono invincibili. Zenia non lo scoprirà, giudiamo. Cos'è che Zenia non scoprirà? Oh, ecco la mia fantastica ragazza. Ciao, Zenia. Ops, ciao, rane. Allora, che tipo di segreti avete con il mio ragazzo, eh? Zenia, al posto tuo avrei già staccato la parrucca a quella ragazza da tanto tempo. Sono d'accordo e dovremo cacciare Verde, è davvero molesta. Zenia, allora... Volevamo solo un po' di cioccolata con i marshmallow. Per caso è vietato? Zenia, stanno dicendo bugie, non comprano mai niente. Sono i fidanzati delle altre che pagano. Volete che il mio ragazzo vi compri qualcosa? Beh, a dirla tutta, Bruno ci ha già offerto gratuitamente della cioccolata con i marshmallow. E ci ha chiesto di non dire nulla a Zenia. Sapevo che c'erano solo ragazzi stupidi qui dentro. Zenia, ti prego non prendertela. Bruno, la verità è che sei proprio uno sfigato. Non dovresti comprare dolci a queste due con le parrucca. Ma non ho comprato niente a nessuno, io. E non noi? Bruno, sto ancora aspettando i dessert. Siete delle sanguisughe, non ho più fame. Zenia! Zenia! È tutta colpa vostra. Non è nostra, Bruno, è solo tua. Cioccolata? Oh, accidenti, Eva, non ti perdonerò mai. Che accidenti di punizione era? Mi hanno visto persino le bulle. Diranno tutto a Verde. Quando Verde lo scoprirà, i suoi capelli cambieranno colore. Diana, non preoccuparti. Che succede se lo dicono a Verde? Lei urlerà un po'. E allora? Quindi? Ragazze, va bene. Possono anche dirlo a Verde, ma se lo scopre Simone finirò nei guai, non capite? Giulia, hai sentito? Giorgia, non dovremmo farlo. Come non dovremmo farlo? Entriamo e diciamo, ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Forza! Giorgia, non ci aiuteranno. Giulia, chiesi, te è perduto. Avanti, conterò, ok? Uno, due, tre. Ok, secondo me Dima non si è arrabbiato quando Diana l'ha palpeggiato così. Not! Non era affatto turbato, pensava che lei volesse flertare. Oh, avanti, ragazze, basta con questa storia, d'accordo? Ciao, Banni. Banni, dobbiamo parlarvi. Ragazze, in realtà non potete entrare qui senza bussare. Sì, che ci fate qui? Non abbiamo ancora iniziato la selezione. E comunque non sarete ammesse. Ok, Giorgia, andiamo. Giulia, aspetta, ragazzi, abbiamo bisogno di un consiglio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, ragazze. Wow! Di che tipo di consigli hanno bisogno i perdenti? Credo che abbiano qualche problema personale. Per i perdenti, in realtà abbiamo molto da fare. Ok, andiamo, Giorgia. Andiamo, Giulia. Ah, ok, ragazze, però diteci che consigli volete avanti. Diana, sul serio? Diana, abbiamo dei problemi con i nostri fidanzati. Sì, è vero, non sappiamo flertare. Insegnaci a farlo. Oh, ragazze, ci vorrebbe proprio un miracolo. Eh, ma smettila, sei stata così cattiva oggi. Devo ricordarti che ti ho insegnato io a flertare con Timothy. Giulia, abbiamo una possibilità. Beh, Diana, non so che fare perché Cuculo non mi guarda nemmeno, ok? E Patrick fissa le altre ragazze. Oh, ragazze, questo è un problema, lo capisco. Ma quanto tempo abbiamo prima dell'allenamento? Solo 15 minuti, Diana. Ottimo, vi insegnerò diverse cose in questi 15 minuti. Grazie, Diana. Sì, saranno nostri. Ragazzi, la nonna di Mary mi ha invitato a casa sua. Sapete per caso perché dovrei andarci? Perché incontrare una nonna è una cosa davvero molto importante, Max. Io invece andrò a sciare con Diana. È molto meglio che bere il tè con la nonna, sai? Aiutate a decidere oppure no. La chiamerò io, tranquillo. Pronto, parlo con la nonna di Mary. Max non può venire perché è malato proprio così. Giada, ora andremo dai giocatori di basket e diremo loro che abbiamo visto con questi occhi che Diana ha toccato le chiappe di Dima. Sarà epico. Sì, Laila, è stato un peccato non aver fatto una foto. Oh, Giada, scusa, ma non mi aspettavo di vedere quello che ho visto. L'importante è che Simone ci creda, ma non abbiamo prove. Ci crederà, Giada. Incontra sua nonna, potrebbe raccontarti qualcosa su Mary, no? Ma cosa potrebbe dirmi sua nonna su Mary? Avanti alla nostra occasione, aha. Ciao, ragazzi. Che cosa ci fate qui dentro, voi? Simone, vogliamo parlare con te. Dobbiamo fare un discorso molto serio. Discorso serio con me, vero? Dovete aver dimenticato che non voglio parlare. Sì, te lasciate la stanza, ci stiamo allenando. Lo stufo di voi. Perché ci correte sempre dietro? L'hai, l'hai sentito? Beh, Simone, se non ti importa sapere di chi era il sedere che Diana ha palpeggiato, allora ciao. Ce ne andiamo. Che cosa? Aspettate, era un sederino maschile, per caso? Esatto, Simone, è questa la domanda giusta. Sediamoci. Non gli conviene parlare con loro. Diranno altre castronerie e lui le ascolterà. State dicendo bugie? No, l'abbiamo visto con i nostri occhi. Cavolo, non ci posso credere. È proprio successo, vero? Beh, Simone, è così ovvio. Simone, andrai ancora per le lunghe. Esercitatevi senza di me. Simone ha di cattivo umore, capite? Che razza di rattacce. Hanno interrotto il nostro allenamento. Continuiamo, dai, forza. Fate questo esercizio, ragazzi. Dovreste riuscire a farlo perché abbiamo fatto queste lezioni aggiuntive apposta. Ma certo, professor Mike. Cuculo, perché hai saltato la lezione aggiuntiva la scorsa settimana? Eh, beh, perché ho aiutato mia nonna scorsa settimana. Ma se hai giocato tutta la notte alla play e hai dormito tutto il giorno. Sapete, ragazzi, se non riuscite a svolgere questo compito, basta lezioni. Professor Mike, può dire a cuculo che mi ha rubato una cosa su Minecraft? Me l'ha rubata. Patrick, stai zitto. Kev, ti dico che è venuta da me e mi ha fatto proprio così. Dima, siediti, che stai facendo? Così, Kev. Questo è malato. Siediti, il prof ci sta guardando. Non mi interessa, deve avere un significato. Che significato, Dima? Spiegami. Dima, cavolo. Non ci crederà, prof, ma Dian è dipendente da me. Prof, non gli presti attenzione. Siediti, forza. Cuculo, hai sentito, Dima? Giulia e Giorgia non sono così, vero? Giulia e Giorgia non fanno più parte delle nostre vite. Se non smettete subito di dire queste cose stupide, non faremo più lezioni aggiuntive, chiaro? Ok, prof. Si è avvicinata e mi ha stretto le chiappette. Significa sicuramente qualcosa. Dima, stai volando con i tuoi pensieri o stai facendo il compito? Sì, maestro Mike, lo farò. Ma sa, tra mediana è scoccata la scintilla. Magari scoccasse una scintilla nel tuo cervello. Fai il compito. Vittoria, vittoria, le banni sono forti. Le banni vinceranno. Vittoria, vittoria. Le banni sono forti. Le banni vinceranno. Banni, banni, sono fortissime. Ragazzi, abbiamo fatto un bel allenamento. Sì, Diana, ma era meglio con la nostra mascotte. Sì, Diana, mi manca la nostra mascotte. Allora, farò questo. Chiederò a Simone di essere la nostra mascotte. Che ne dite? Oh, wow! Gliel'hai già chiesto? No, ragazze, glielo dirò oggi. Che ne dite? Cosa mi dirai? Che hai toccato il sedere di Dima, per caso? Oh, accidenti. Simone ti spiegherà tutto, d'accordo? Simone è davvero arrabbiato. Ciao, Eva. Ciao, ciao. Simone, calmati. Era solo una punizione di Eva, nient'altro. A proposito, saresti la nostra mascotte. Che ne dici? Non sarò la vostra mascotte. Non salterò come un clown con un costume da coniglietto. Sono un cestista, sai? Simone ha ripiutato. Lo sapevo perché gli piace mettersi in mostra. Si è un peso per via di Dima. Ecco, è tutta colpa tua, Eva, eh? Mary, calmati. Chi ha detto che voleva una punizione difficile? Se non sbaglio, eri proprio tu, no? Ok, Simone, non sarai la nostra mascotte. Ma non offenderti per colpa di Dima. Era solo una stupida punizione di Eva. Una brava ragazza non porta a termine questi compiti se ha un fidanzato, lo sai? Eva, avanti, diglielo. Che dovrei dire? Non voglio passare dalla parte del torto. Kev, che dovrei fare se lo fa di nuovo? Stai calmo, Dima. Julie, stanno arrivando. Spero che non ci stiate aspettando. Non vogliamo più nessuna relazione con voi. Giorgio, sono arrabbiati. Va bene, Julie, allora passeremo al piano due. È solo l'inizio, questo. Siamo pronti a tutto. Stai mentendo? No, Verde. Verde, se era il suo sedere, è terribile. Non ci credo, state mentendo, vero? Verde, vogliamo solo dirti la verità. Ma puoi anche non crederci. Guarda, c'è Dima. Carina, andrò subito a chiederglielo. Dima, è vero? Che cosa? Di te, Diana, vicino agli armadietti. Non lo so, non ho visto Diana. Dima! Verde, devi impegnarti in più. Esatto. Bene, Zenia. Verde è vicino a Dima. Vai a parlare con Bruno. No, ragazze. Il mio cuore è troppo orgoglioso. Se non ci vai, non ci darà più la cioccolata a credito. Se invece ci vai, ce la darà, perché sarai la sua ragazza. Preferisco vivere con il mio orgoglio e senza cioccolata. Sei sicura? Così carino. Sì, ho detto niente cioccolata, d'accordo? Dima, se non vuoi dirmi la verità, la scoprirò da sola. Se questa è la verità, invece, allora sei salvo. Buona fortuna. Sai che c'è? Che Green scopre che Diana mi ama? Non sono così sicuro che ti ami. Forse era solo uno scherzo. Pensi davvero che sia uno scherzo? Potrebbe essere, no? Simone, va tutto bene? Sei sicura che non l'hai nemmeno toccato? Simone, davvero non l'ha toccato. Ha fatto solo così e basta. Ok, vero Eva? Sì, era solo una punizione. Diana non l'ha nemmeno toccato. Non ha portato a termine il compito. Le bulle l'hanno fatta un po' troppo lunga. Hai sentito, Simone? Ok, tesoro, ti credo. Quando dovrai diventare mascotte? Oh, beh. Diana? Bene, c'è anche Simone. Diana, chi ti ha permesso di toccare le chiappe del mio pidanzato, eh? Chi te l'ha permesso? Giuro che ucciderà quelle bullette. Non capisco. Qualcun altro a scuola lo sa? Il professor Mike lo sa. E anche il preside lo sa. Eva, quella punizione era un po' troppo impegnativa. Ora Diana avrà un sacco di problemi. E io che centro? Ha perso. Era solo una punizione. Ragazzi, voi siete proprio pazzi. Non esistono scherzi del genere. Simone, aspetta un attimo. Verde, non capisco. Era solo una punizione e nient'altro. Cosa non ti è chiaro? Diana, voglio che ti scusi davanti a tutti per aver toccato le chiappe del mio pidanzato. Ok? Devi farlo. Almeno spero che tu non abbia toccato quelle del mio cab. Lo spero, cheerleader. Verde, niente scuse. Simone, andiamo. No, Diana, ti scuserai. Ragazzi, non ci credo. Avete visto? No, non ho toccato le chiappe degli altri fidanzati. Mi sembrerà solo una punizione. Mi raccomando, mettete il palice in su, iscrivetevi, premete la campanella e aspettate i nuovi episodi. Ci vediamo presto, ok? Ciao! 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 Ciao!